Ci conosciamo da pochi minuti, ma mi sembra di avervi attesa per tutta la vita. Adempirò ai doveri impostimi come sovrano e come marito. Se non ho risposto è perché la natura stessa si rifiuta di rispondere a una simile accusa fatta a una madre. Coraggio, l'ho dimostrato per anni. Pensate che possa perderlo proprio ora che le mie sofferenze stanno per finire.